Benvenuti nel cuore del Marocco. Bene, ci siamo mostri da Marrakesh e adesso siamo a Ouarzazate. Per la nostra pausa pranzo, super cibo molto buono perché si avvicina molto ai nostri gusti e è un po' più speziato, quindi molto molto buono. Per la nostra pausa pranzo, super cibo, super cibo, super cibo, super cibo, super cibo. Per la nostra pausa pranzo, super cibo, super cibo. Per la nostra pausa pranzo, super cibo, super cibo, super cibo. Siamo arrivati lì, abbiamo fatto circa una decina di ore e siamo arrivati in Valle di Dades, se non mi ricordo male. Saremo circolati da questi bellissimi colori per questa sera perché soggiorneremo in questo riatto. Cose bellissime sicuramente del Marocco che abbiamo visto oggi è assolutamente l'architettura, perché comunque si vede che ci sanno fare tantissimo quei colori, linee, forme e colori sono veramente eccezionali. Infatti la cosa che mi rimane un pochino impresso oggi è sicuramente gli edifici che abbiamo visto, quindi molto storici, conservati molto bene, però super interessanti dal punto di vista dell'architettura. Buongiorno, ci voleva proprio una bella dormita. Adesso ci fermiamo qua ancora un pochino per fare colazione e poi finalmente andiamo nel deserto. Siamo quasi arrivati nel deserto, una piccola pausetta per prendere il turbante e siamo pronti per partire. Siamo ufficialmente in mezzo al deserto. Come sta andando là dietro? Comunque non vedo l'ora di arrivare l'accampamento di stasera. Sì, comunque nel cammello mio, nel dromedario, si sono dimenticati gli ammortizzatori. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, esci qua! Sì, comunque! Sì, comunque! Ieri sera una notte pazzesca abbiamo ballato intorno al fuoco e c'erano un sacco di stelle veramente stupendo, non ho mai visto così tante stelle in vita mia come quelle che abbiamo visto qua nel deserto in questo posto stupendo, siamo quasi pronti per partire perché oggi si ritorna a Marrakesh tirando un pochino le somme da questo viaggio stupendo, in questo momento tra parentesi è appena sorto il sole siamo nel deserto, esattamente tra il confine tra il Marocco e l'Algeria e devo dire che è un paesaggio veramente stupendo, non avevo mai visto così tante stelle come ieri sera tirando un pochino le somme devo dire che mi sto trovando molto bene, è un popolo magnifico sicuramente ha tanti difetti ma anche tanti pregi, tra cui sicuramente il pregio migliore nell'accoglienza perché comunque qua il turismo è veramente importantissimo per loro a livello cosa mi porta a casa? Sicuramente la bellezza di questo territorio non avevo mai visto il deserto, il cielo estellato così intenso sinceramente non avevo neanche mai imballato attorno al fuoco come ieri sera quindi veramente molto bello, molto intenso oggi usciamo da questo paradiso della tranquillità per ritornare a Marrakesh dove sicuramente vedremo un po' di vita grazie a tutti Siamo arrivati a Marrakesh Siamo arrivati a Marrakesh Siamo arrivati a Marrakesh